A qualcuno di voi piacerebbe viaggiare nel tempo? Io da piccolo me lo immaginavo sempre. Quando avevo 8 anni e vedevo quelli più grandi di me, di 13-14 anni, mi chiedevo, ma io come sarò nel futuro? Grande come loro? Forte come il mio amico Tex, che a 13 anni era già alto 1,80 m? Mi immaginavo presentarmi a casa del me stesso adolescente per conoscerlo e magari diventarci amico. Mi immaginavo anche di viaggiare nel passato, vedere casa mia prima che ci abitassimo, incontrare il mio papà da piccolo, giocarci insieme a pallone e magari suonargli. Perché vi dico queste cose? Perché ancora ci penso al viaggio nel tempo e stasera ne vorrei sperimentare uno insieme a voi. Partendo da una sigla e da un nome. C-P-L Concordia. Concordia è un bel nome. Viene dal latino cum e poi da cors, cordis, cuore. Concordia significa con lo stesso cuore. Oddio, so che vi chiamate così perché siete nati a Concordia sulla secchia, ma resta comunque un bel nome, o no? Ed è anche una bella coincidenza. Pensate, assieme con lo stesso cuore. Assieme condividendo il cuore e la fatica. E quei vostri parenti un po' lontani, come li possiamo chiamare non nonni, quelli potrebbero avere la mia età più o meno. Più o meno. Come potremmo chiamarli? Bis, tris nonni. Insomma, quei nostri e vostri predecessori hanno messo insieme le loro forze e si sono chiamati Cooperativa Produzione Lavoro. C-P-L. Uno di quei nomi lunghi, precisi come orologi, che si usavano a quei tempi. Nessun marketing, solo sostanza. Cooperativa Produzione Lavoro. Anche questo è un bel nome. Mette insieme le persone e il lavoro. Il lavoro che non produce dividendi, ma altro lavoro e quindi dignità. Con lo stesso cuore e gli stessi intenti. Bene dunque, diamo inizio a questo viaggio. Facciamo un bel saltello nel tempo. E pensate a quei signori baffuti, secchi, duri come il legno, con le mani scortecciate dal freddo le facce accallate, lavorano in camicia senza dispositivi di protezione che allora ancora non esistevano. Pensate al sudore, alla fatica, ai manici della carriola che pesava pure da vuota, manici lucidi a forza di usarli. Li vediamo intenti a pulire gli argini dei fiumi come tante piccole formichine. Si muovono con gesti precisi, spostano tonnellate di terra. Sembrano un corpo unico. Proseguiamo il nostro viaggio. Andiamo un po' più avanti nel tempo. Arriviamo negli anni ruggenti, gli anni venti. C'è il cinema, anzi il cinematografo, la radio. Quelle strade cominciano a vedersi le prime automobili e la gente si accorge di quelle formichine. Ma guarda come lavorano quelli con le mani scorticate, la schiena rotta. Ma che gran lavoratori! Ci sono i consorzi di bonifica all'epoca e li chiamano per lavorare un po' dappertutto, non più solo a Concordia, ma anche a Parma, a Modena. E ancora lavoro, ancora fatica, ancora lavoro, ancora fatica, ancora unione. Per cinquant'anni tutto a mano. E poi arrivano i mezzi. I vagoni Decoville. Siamo nel 1946, la guerra appena finita. E questi mezzi vengono visti, accolti con stupore, con meraviglia. Ma guarda lì che belli che sono, nuovi, lucidi, moderni. Pensa a quanto ci siamo rotti da schiena per poterli avere. E con quelli, con i mezzi, cambia tutto. Si esce persino dalla regione, si arriva fino ad Aosta a costruire strade, addirittura fino a De Grigento in Sicilia. E poi altri dieci anni e accade questa cosa che ti fa quasi commuovere per quanto ti racconta quel tempo. Siamo ora nel 1954 e arriva il primo geometra diplomato. Pensate un po'. Il diploma da geometra. Era un orgoglio. Il primo colletto bianco. Il primo che non si spezza la schiena ma che farà un altro lavoro per noi. Per la cooperativa, produzione e lavoro. Un ruolo importantissimo. E da qui in poi cambia veramente tutto. Siamo negli anni Sessanta. L'uomo va sulla Luna. Gli anni del boom economico. La guerra, un ricordo ormai lontano. In Inghilterra scoppia un fenomeno nuovo. Nascono i Beatles, un complesso musicale che fa impazzire milioni di giovani in tutto il mondo. Viene lanciata una nuova moda. La minigonna. I maschi si lasciano crescere i capelli. E anche in Italia si cominciano a vedere i primi capelloni. Si apre la strada ad una rivoluzione culturale. E tutto accelera. Tutto sembra correre verso il futuro a velocità impressionante. Da un certo momento in poi abbiamo cominciato a crescere e non ci siamo più fermati. L'economia corre. C'è il boom. In ogni casa c'è un televisore. Ogni famiglia possiede una macchina, però più un'utilitaria. Utile, per non dire indispensabile, ad ogni famiglia. E quell'unico geometra si moltiplica. Arrivano i tecnici, poi gli ingegneri e poi i manager. E qui accelera tutto. E acceleriamo anche noi. Il viaggio nel tempo arriva fino ad oggi in un batter d'occhio. 1618 dipendenti, 635 soci, commesse in tutta Italia. Siti UNESCO che si affidano a Concordia. Una grandezza che quelle formichine con le carriole non potevano immaginare più di un secolo fa, ma come avrebbero potuto. Oggi la cooperativa Concordia compie 125 anni. Che non sono tanti, ma sono tantissimi. Quante aziende esistono che possono vantarsi di avere quegli anni? Forse la Coca-Cola con la Fiat. Anche se adesso hanno cambiato nome siete coetanei. Siete i Matusalemme dell'economia italiana. Solo che Matusalemme, quando è morto, era vecchissimo. Aveva 969 anni. E voi, a vedere, mi sembrate piuttosto giovani. Anzi, un paio di anni fa il vostro presidente giovane, pure lui, affermava che chi vive per tanti anni deve rinascere tante volte. Perché chi rinasce torna giovane. E quindi forse è questo il segreto per arrivare fino a 125 anni e arrivarci giovani. Ora siamo giunti al termine di questo grande viaggio nel tempo. Un viaggio che vorrei non finisse mai. Devo dire che a distanza di tanti anni continua a piacermi l'idea di viaggiare nel tempo. Anzi, vorrei che lo potessero fare tutti. A me, personalmente, piacerebbe incontrare mio padre e mia madre da coetanei oggi. Siete a tavola, mangiare insieme, chiacchierare, che vedessero cosa sono diventato. Ecco, sarebbe bello che chi c'è stato prima di noi, chi ha fatto sì che noi fossimo qui, potesse vederci ora, in questo momento. Immaginate se in questa sala così bella, in questo posto così elegante, nella città più bella del mondo, ci fossero anche loro, secchi, duri come chiodi, con le mani rovinate dal lavoro, magari col vestito della Domenica. se ne starebbero in fondo alla sala, per non disturbare, col cappello in mano, e guarderebbero con fierezza e con gli occhi lucidi quello che siete ora. Buon complanno a voi e a loro. Grazie. Grazie.